Ciao a tutti Kugio e ben ritornati da vostro Andrini 91 su Yo-Kai Watch 2 Mentre mi preparo per l'Inferno Infinito vi porto questi brevi video che fanno da antipasto prima della portata principale ovvero l'Inferno Infinito Ad ogni modo in questo video vi farò vedere come ottenere 3 Yo-Kai speciali Ovvero Hovernian, Jibakoma e Darknian Darknian secondo alcune fonti non potrebbe essere reperibile in Yo-Kai Watch 2 Spiritossi e Polpanime senza QR Code Il problema è che il QR Code serve anche per Hovernian e Hovernian è possibile prenderlo in queste due versioni del gioco Mentre per Darknian sembrerebbe che si possa reclutare facilmente in Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters in uscita in America quest'anno Ad ogni modo grazie al QR Code possiamo reclutarlo ma prima andiamo a prendere Hovernian Per prendere Hovernian bisogna scannerizzare questo QR Code che vedete in sovraimpressione Una volta fatto bisognerà andare a San Fantastico Perché a San Fantastico? Perché a San Fantastico si vende il tonno scelto che è il cibo preferito di Hovernian o comunque sia cibo della tribù dei Nian solo dei Nian non di altri Yo-Kai solo per i Nian in particolare i Nian Compriamo il tonno scelto nel negozietto di San Fantastico Poi dobbiamo andare nella Val d'Oro del Passato Nella Val d'Oro del Passato dobbiamo andare al nascondiglio di Nathaniel ovvero il nascondiglio ninja mi sembra si chiami Una volta lì salviamo prima di entrare lo salviamo anche dentro non importa l'importante è che si salvi perché Hovernian potrebbe non diventare nostro amico al primo scontro e questo vale anche per gli altri due che vedremo più avanti ad ogni modo c'è sempre un modo semplice o meglio più facile per far sì che uno Yo-Kai ti diventi amico prima ed è quello di cercare uno Yo-Kai in particolare che non so come si chiama in italiano dovrebbe chiamarsi Smuchi o Spuchi in inglese non mi ricordo è comunque sia un cagnolino rosa Yo-Kai che aumenta le probabilità di farti diventare amico un altro Yo-Kai e ci sono anche Casanova e Q-Pistol che purtroppo anche questo non so come si chiama in italiano ma possono servire anche loro due allo scopo di prendere per far diventare amici più facilmente uno Yo-Kai poi una volta fatto insomma una volta che ci è diventato amico mi raccomando dategli il tonno scelto per farlo diventare amico più facilmente nel caso non abbiate gli Yo-Kai sopradetti andiamo a prendere Dark Nyan Dark Nyan si trova nella fabbrica dove abbiamo dove ci siamo scontrati con Dekadama non Lethal Dama Dekadama quindi andiamo sempre nella Val d'Oro del passato andiamo nella fabbrica e troveremo lungo il corridoio Dark Nyan come sempre il discorso di prima salvate prima di affrontarlo per Dark Nyan invece piace il tonno i frutti di mare come cibo preferito però come ho detto prima il tonno scelto servirà comunque allo scopo ok? come ho detto la tribù dei Nyan essendo gatti amano il tonno non è il cibo preferito ma il tonno farà comunque il suo dovere ok mi ci sono volute 5 prove per Dark Nyan 3 per Over Nyan e con Jibakoma che andiamo a vedere ora ma ce ne sono volute per Cibakoma il discorso è un po' diverso bisogna scannerizzare questo QR code che vedete qui poi bisogna andare nella Val d'Oro del presente quindi nel tempo presente andare al negozio di caramelle che si chiama caramelle si trova a campo fiorito compriamo almeno una barretta di cioccolato e poi andiamo al piano terra della scuola di Val d'Oro lo troveremo nell'infermeria non chiedetemi perché vi ricordo intanto che tutti quanti i QR code si scannerizzano alla banca salvadanaio anche lui stesso discorso salvate combattete finchè non diventa vostro amico e bam ecco come ottenere 3 yokai in modo facile 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 Overnian e Darknyan sono buonissimi yokai che vi saranno molto più utili per affrontare determinate parti del gioco ad esempio come l'inferno infinito penso che Darknyan sia più adatto allo scopo e c'è anche appunto una parte speciale del gioco che è sbloccabile solo facendo il link tra Spiritossi e Polpanime ma quella ci penseremo più avanti ad ogni modo io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video bye bye